Già abbiamo notizialo tutti, te lo dici il palletto. Ah, ok, ok. Sì, comunque sta crollando, quindi se non arriva qualcuno subito... Ma almeno bloccassero le strade! Almeno qualcuno che blocchi le strade perché stanno passando macchine e pedoni. Cioè, stanno... A posto, a posto. Ah, ok, a posto. È registrato? Sì. È registrato che è a posto? Sì, sì, io sto registrando. È già gli è arrivata la notizia, allora io non ti devo continuare a chiamare. Eccolo! Madonna, madonna, speriamo che non c'è nessuno sotto. Madonna mia! Speriamo che non c'è nessuno sotto. Gliel'abbiamo pure detta a questo... No, speriamo che non c'è nessuno sotto, ti prego.